Istituto Comprensivo Salvemini di Battipaglia, oggi ritorno a scuola per la scuola dell'infanzia e per le prime e seconde elementari. Ascoltiamo il parere dei docenti. Praticamente noi siamo tornati, eravamo tutte preoccupate, però vi posso assicurare che è stata un'emozione grandissima. I bambini erano felicissimi di ritornare a scuola e adesso avevano bisogno di ritornare a scuola perché è vero anche se ha funzionato stranamente perché noi avevamo dubbi la DAD soprattutto per una classe prima che noi sappiamo quanto è difficile con bimbi così piccoli però noi docenti di tutte le prime ci siamo reinventate un modo, il metodo e ci siamo riusciti perché alla fine abbiamo comunque la via alla lettura c'è stato anche per quanto riguarda i calcoli entro il 9 l'addizione, siamo soddisfatte per quello che abbiamo fatto, ci siamo sforzate sinceramente però comunque però vedere adesso, adesso i bambini avevano bisogno di ritornare a scuola perché dovevano essere stare con i pari, c'era adesso, dobbiamo adesso lavorare sull'autonomia dei bambini perché la DAD ha creato la dipendenza dall'adulto quindi quell'insicurezza però noi piano piano siamo molto motivati e quindi ce la faremo sicuramente. Lo SPA noi abbiamo trovato l'aula veramente rivoluzionale perché ci sono i banchetti piccoli, c'è il distanziamento, questa è una classe molto numerosa di 24 alunni però comunque c'è il distanziamento e poi ci siamo organizzati noi docenti, siccome devono avere la mascherina la devono tenere tutte e 5 le ore, è impossibile con bambini così piccoli, ci siamo organizzati internamente che due volte, alle 10 la nostra classe uscirà e a mezzogiorno usciremo negli spazi, quando è bel tempo andremo fuori o magari nell'atrio all'interno qua dentro e faremo un po' di attività lì preferiremo togliere la mascherina. I bambini sono già molto già educati, già dalle famiglie perché pure se cade una matita la sanificano quindi veramente siamo partiti bene, speriamo di continuare perché i bambini hanno bisogno di stare a scuola e la scuola è un posto sicuro perché cerchiamo di rispettare le regole. Insegno in questo istituto da molti anni e devo dire che in questo periodo i bambini anche nel periodo in cui sono rientrati per brevissimo tempo sono tornati tutti a scuola, oggi a dimostrazione che la scuola è una scuola piacevole i bambini sono rientrati tutti, infatti sono tutti in classe che stanno già lavorando, è una scuola piacevole la scuola in cui si attuano una molteplicità di attività e progetti innovativi ma soprattutto la scuola in cui il bambino cresce, in cui il bambino socializza. Noi siamo felicissimi di averli rivisti oggi perché questo ci dimostra che la scuola è importante, i genitori la tengono in grande considerazione e i docenti lavorano con responsabilità. siamo felicissimi di poter invitare anche per le nuove iscrizioni nella nostra scuola, una scuola che è una scuola al top perché è una scuola che mette a centro di tutto i bambini, la loro crescita, il loro sviluppo sia indelettivo, psicofisico insomma, tutto quello che concerne il loro sviluppo e la loro crescita perché rendiamoci conto che la scuola dell'infanzia è la scuola che dà le fondamenti per la crescita dell'essere umano, dà gli input per uno sviluppo che lo porterà a diventare un'ottima persona. Quindi noi invitiamo tutti a iscrivere i bambini, le iscrizioni sono in questi giorni e l'Istituto Salvemini vi accoglierà offrendovi spiegazioni per come funziona la scuola e tutto quello che offre. Il Sistuto Salvemini vi aspetta numerosi. A presto!